Purtroppo abbiamo visto notevolmente aumentare il nostro lavoro qui al distaccamento di Sala Consilina. Le tipologie di interventi sono sempre più o meno le stesse, ma è aumentato proprio numericamente. Questo sta a significare che c'è sicuramente ancora tanta incuria e poco rispetto per l'ambiente e quindi mi riferisco in particolare agli interventi effettuati in tutto il periodo estivo per gli incenti di bosco e di serpagli in generale e poi anche per frane e smottamenti che si sono verificati, chiaramente anche questi a seguito del poco rispetto per la natura. Le tipologie, ripeto, più o meno sono sempre le stesse. Andiamo dagli incidenti stradali, ancora numerosi, sulle strade del Vallo di Diano. Sono diminuite fortunatamente in autostrada, visto anche il rifercimento di tutto l'asse viario. Ma sulle strade del Vallo sono ancora numerosi e purtroppo anche con vittime. Sono notizie di cronaca che voi conoscete meglio di me. Poi abbiamo incendi abitazioni, abbiamo verifiche di stabilità per situazioni particolari. Oltretutto non dimentichiamo che siamo in una zona definita rossa per quanto riguarda il rischio sia idrogeologico che per quanto riguarda purtroppo il rischio sismico. Un'ultima cosa, il 2009 purtroppo è tristemente marchiato dal sisma dell'Abruzzo, il sisma che ha colpito l'Aquila e le città vicine. Sono stati impegnati nei soccorsi vari corpi delle forze armate, tra cui anche i vigili del fuoco. Anche Sala so che è salita su in Abruzzo. Sì, voglio ricordare a proposito della nostra presenza che poco più di un mese fa abbiamo ricevuto a tal motivo la medaglia d'oro alla bandiera del Corpo Nazionale da parte del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Questa cosa ci ha inorgogliti parecchio e pensiamo di averla meritata a pieno titolo. Il nostro personale è stato impegnato sin dalle prime ore su uno scenario letteralmente catastrofico che purtroppo tuttora esiste. Bisognerebbe andare su quelle zone per vedere ancora oggi qual è la situazione. Io sono rientrato poco più di un mese fa dall'Aquila, ci sono stato lì per circa dieci giorni e le assicuro che sono delle scene che per capire in pieno bisogna vivere, bisogna andare sul luogo per capire.